Salve a tutti Cristaline e Cristaline, come l'ho detto da titolo, oggi andremo ad aprire la seconda mini verse che ho preso, cioè in realtà che mi è stata regalata per il mio compleanno e non vedo l'ora di vedere cosa c'è. L'ultima volta volevo il bubble tea, però ho trovato i cereali e devo dire che erano molto molto carini, è stato divertente farlo, questo è leggermente più grande, quindi mi aspetto qualcosa in più, nel senso, quella era stata anche abbastanza facile da fare, ora questa cosina non si riuscirà mai, è talmente sottile che è troppo difficile da aprire per me. Ecco, anche questa aperta, malissimo, non ci riuscirò mai a tirarle bene. Oh, ne? Sottisfacente la cosa, però. E' il terzo strato di plastica. Ok. Allora, qua mi sembra già di intravedere un tavolino, perché mi fa abbastanza felice, sono contenta di questa cosa. Ok. Allora, io non vorrei spoilerarmi cose, quindi io farò direttamente così, senza guardarle troppo, perché l'ultima volta mi sono spoilerata tutto, perché c'era tipo il, la tovaglietta, quindi. Vediamo cosa possiamo trovare qua. Allora, qua il tavolino non è disegnato in nessuna di queste cose, mi sembra di vedere. Oh, no. No, nessuno ha il tavolino, quindi questo non ci spoilerà niente. Allora, no, che carini. Vabbè, sono carinissimi. Anche i pancake. No, ma proprio carini. Ok. Toast, le torte che sono belle. Vorrei trovare una torta. Vorrei trovare questa. Allora, mi piacerebbe trovare o questa, o questo qua, ma anche questo, i waffle. Diciamo che non sono terribilmente attratte da questi tre, però sono sicura che sarà uno di questi. Non lo so. Anche questi mi sembra un po' semplicini, mi piace di più questo. Devo dire che sono tutti molto molto carini, però sì, mi attirano di più le due torte. Vediamo un po'. Allora, innanzitutto c'è il tavolo. Io li rinievo da questa bustina di qua. Oddio, non riesco a capire cos'è. Tenere al fresco. Qualcosa da tenere al fresco. Oddio, ghiaccio, no? Cos'è? Ah, questa è la resina. Lemon cream. Oddio. Ce n'erano più di una al momento con questa e potrebbero essere. Oddio, forse questi. Anche questi. Ma anche le due torte. Ok, ok. Io spero in questa. Ok. La crostata va bene. Andiamo qua. Curiosone. Spostati. Fortuna che non ho la resina. Ti sporcavi tutto. Su. Piccolo. Gatto curioso. Allora. Questo di qua mi sembra proprio... Sì, sì. Ci sarà una torta. Oh mio Dio, come contenta! Penso che sia una delle due crostate. Sì. Oh, è questa, è questa. Io spero tantissimo in questa. Quindi, ok. Vediamo. Prossimo. Cos'è? Sì. Ho bisogno di essere delle fragole, quindi sarò la frutta, immagino. Oh no, è l'altra. Oh ma è carinissimo! Ok. E volevo l'altra, lo ammetto, però... Sono contenta che sia una di quelle due. Qua c'è la forchettina. Io penso che questo posso anche legarlo per adesso. Poi vediamo un po'. Allora... Questo forse va sul tavolo. Allora, ci sono altri due. Qua sono disegnati sempre tutti, quindi immagino ci siano... ...di fili. No, che carini. Sono fatti stra bene. Hanno anche vari sfumatori di colore. E qua penso che ci sia l'abbato della torta. No, ma è anche nella sua scatolina! Che cari... No, vabbè, carinissimo! Ok, allora... Io direi... Sì, abbiamo provato... ...proprio... Questa qua. Andiamo a vedere le istruzioni. Ok, oh! Allora, sono più passaggi questa volta. La volta scorsa mi sembra che erano... ...uno o due passaggi. Questa volta... Eccoli qua. Quindi... La resina dobbiamo andarla a mettere tutta. Ok, poi andiamo a mettere la frutta. E poi... Ok, ok! È abbastanza semplice anche questa. Cioè, nel senso, mi aspettavo un po' peggio. Però... Ma... È tipo di gomma. Me l'aspettavo rigido. Questo è tipo gomma. Ok, quindi... Come primo passaggio dobbiamo andare a mettere... ...questa. Se ho sentito i rumori, ovviamente... ...è un piccolo Loki che sta giocando. Ok. Allora, se ho ben capito, ora... ...devo andare a mettere... ...tutti i vari fruttini. Cioè, è carinissima! E ora devo andare a mettere... ...i mirtilli. Io direi che così è perfetta. Tra l'altro... Cioè, guardate quanti ne sono rimasti i due. Ok, vado a farla catalizzare. Esprimo bene perché è carinissima. Ed eccola qua! Cioè, è fantastica! Io adoro. Questa invece è molto di più rispetto a quella dell'altra volta. E è strana al tatto perché si sente la cartelletta morbida. Cioè, non è dura. È fatta appunto in questa specie di gommina. Ma anche le varie decorazioni hanno tutte consistenze diverse. Cioè, non sono plastica dura, tipo resina. E è carinissima. Mi piace anche il fatto che appunto la resina sia lucida da quell'effetto proprio... Che ha la torta con quel dolce originale. Carinissima. Adoro. Vado a chiuderla. E c'è. È fantastico che ci sia pure il tavolino. Ovviamente, come vi ho già detto io, queste cose le andrò a conservare tutte. Cioè, queste poi tra l'altro ne sono rimaste. Quindi sicuramente... Questa sono ancora indecisa perché è solo plastica. Devo dire che questa mi è piaciuta molto di più dell'altra. Veramente, mi diverto tantissimo a realizzare queste cosine. E poi trovo molto molto carino tutti i vari dettagli che hanno fatto. Devo dire che sono veramente ben fatte. Sì, questo senza dubbio. Con tutte le varie scatolettine per contenere tutte le fatture. È molto molto carino. E sicuramente ne prenderò un'altra. Io già lo so perché di colino ecco lo faccio. Quindi non sto neanche a dire no, non lo faccio. Perché mi piace tantissimo. L'unica mia paura è trovare un doppione. Perché ovviamente, diciamo che per il prezzo che hanno, trovare un doppione non ne sarei felicissima. Ma comunque, cioè... Che carina! Non vedo l'ora di farmi un altro. Cioè, io già sono in ostinanza da voglio fare un altro. È veramente, veramente carina. È proprio carina. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! 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 Grazie a tutti.